Giovanni Monti, titolare dell'impianto balneare Baia dei Venti, fronte ospedale marino. Quali sono le conseguenze del maltempo delle mareggiate di in questo inverno, signor Monti? Le conseguenze qua sono disastrose, c'è degrado ovunque. Negli anni, oltre ad aver perso decine e decine di metri di litorale, qua stiamo perdendo anche zone limitrofe come questa. Degrado ovunque, detriti di ogni genere, dove qua passano migliaia e migliaia di turisti. Che non possono transitare e arrivare negli altri parti del litorale, da San Giovanni verso Maria Pia. La situazione dunque è grave, la stagione è alle porte, vi siete rivolti alle autorità competenti? Sì, ci siamo rivolti alle autorità competenti, solo che nessuno ci ascolta, siamo qui soli con questa situazione di degrado, la stagione è imminente, non sappiamo cosa fare.